Musica Benvenuti e benvenuti alla prima edizione del TG6. Prima udienza preliminare al Tribunale di Pescara questa mattina per il processo sul presunto depistaggio della Prefettura di Pescara in merito alle richieste di aiuto dall'hotel Rigopiano. Prima della valanga, come sapete, lo ha travolto il 18 gennaio 2017 provocando 29 morti. Ci colleghiamo in diretta con il Palazzo di Giustizia di Pescara dove per noi c'è Stefano Recanati. Stefano, buongiorno. Vedo che non sei solo. Quali sviluppi dal Tribunale? Buon pomeriggio ai telespettatori di TV6. Sì, ha detto benissimo. Ci troviamo all'interno del Tribunale di Pescara dove da poco si è conclusa questa udienza che vedeva i vertici della Prefettura in aula. Possiamo dire che già nessuno di sette citati qui al Tribunale non erano presenti. Erano presenti i loro avvocati, gli avvocati di Francesco Provolo, l'ex prefetto, e poi di altri sei imputati. Siamo in compagnia del avvocato Nicolò Baldassare che rappresenta il comitato vittime di Rigopiano per commentare qual è la notizia del giorno e cioè la possibilità del riunire tutto in un unico filone. Questo è quello che è stato deciso dal giudice Di Carlo, però la parola spetterà il 31 ottobre al Presidente del Tribunale, Angelo Bozza, appunto per questa opportunità. Siamo con, come abbiamo detto, con l'avvocato Baldassare a cui chiediamo un commento di questa notizia. Beh, era prevedibile da un certo punto di vista la riunione, però come comitato ci riserviamo di valutare se questa eventuale riunione possa portare giovamento alla ricerca della verità, della giustizia e alla celerità del procedimento, perché di certo un'eventuale riunione andrebbe ad allungare i tempi. Ecco, questo è una nota negativa, però dall'altra parte potrebbero esserci anche sviluppi positivi come il fatto di trovare, avvocato all'interno poi di un unico filone, delle notizie per cui risalire a qualcosa di non uscito finora. Sì, potrebbe certamente accadere che alcuni elementi, fino adesso non valutati o esclusi, possano entrare anche nel filone principale, quindi questa potrebbe essere la nota positiva. Durante la pausa che c'è stata intorno alle 10.30 per aspettare proprio la decisione del giudice Di Carlo abbiamo ascoltato degli avvocati, tra cui Gianluigi Tucci e avvocato di Giulia Pietrandolfo, una funzionaria della prefettura che parla di come sia per loro un errore riunire questo processo, il contributo. Per quanto riguarda la dottoressa Pontrandolfo, che nulla sa del processo penale di Vigopiano relativo al disastro, andare a stare in quel processo per omicidio colposo, io sinceramente non ne vedo il motivo, la ragione, non siamo neanche in grado di difenderci ad oggi, ovviamente, non conosciamo le carte, non abbiamo avuto la discovery, non ci spettava avere la discovery di quel processo, quindi non ne sappiamo nulla se non quello che si sa dai mezzi di informazione. Grazie a tutti. che per la prima volta ha mostrato un documento, un documento secondo quale per lui lo Stato non si è costituito parte civile, il contributo. Io credo che rispetto alle valutazioni del processo Rigopiano, oggi abbiamo visto qualche cosa di estremamente brutto in danno dei cittadini, se volete ve lo spiegherò perché però mi dovete un secondo togliere la telecamera perché devo tirarvi fuori un documento che è nuovo e che nessuno conosce ancora. Con il riferimento all'evento Rigopiano, tutto ciò che non ha funzionato indipendentemente dalle singole responsabilità, si ritiene utile significare che la stessa sia apparezza totalmente istituita in ogni fondamento in punto di fatto e in diritto, pertanto a questa amministrazione non può essere imputata alcunché e nulla quindi risulta dalla stessa dovuta relativamente alla vicenda in parola. Il capo del Dipartimento, Angelo Borrelli. Oggi noi abbiamo assistito e abbiamo avuto la controprova che lo Stato vuole chiamarsi fuori dal risarcimento nei confronti della vittima di Rigopiano. Questa è la notizia giornalistica, questo è il fatto vero, il resto ciò che diceva il giudice su delle costituzioni di parte civile speriamo che vengano ammesse perché siamo da soli. I nostri assistiti e quelli che hanno avuto il coraggio di esplendere e di affrontare la marca da bordo da 27 Euro sono soli, 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 lo Stato li ha lasciati soli. Ecco, Avvocato Baldassare, queste sono state le parole del suo collega Romolo Reboa, parole importanti, però sappiamo che comunque lo Stato ha già stanziato quei 10 milioni di euro che non sono, ricordiamo, un risarcimento ma sono un aiuto per le famiglie, l'Avvocato Roboa invece intendeva proprio il risarcimento a queste persone. Sì, non mi permetto però di entrare nel merito della richiesta di risarcimento dell'Avvocato Reboa perché non ne ho contezza e di questo ne deve parlare esclusivamente lui in nome dei diretti interessati, certo è che il Comitato si attende fiducioso una costituzione di parte civile da parte del Ministero della Giustizia, assolutamente. Si tornerà in aula il 25 ottobre, quindi tra pochi giorni, però ci sarà sicuramente, quasi sicuramente lo chiediamo anche all'Avvocato Baldassare, questo sciopero che farà slittare di un altro mese l'appuntamento qui al Tribunale. Purtroppo sì, verosimilmente ci sarà il rinvio il 25 ottobre per lo sciopero. Ricordiamo perché basta che un Avvocato di una parte chiamata in causa non si presenti e aderisca a questo sciopero che può saltare tutto. Sì, dando un ambiente previa comunicazione però è così. E quindi come aveva detto già in precedenza nella scorsa udienza il GUP, ci sarà l'appuntamento per ogni venerdì di fine mese, quindi si tornerà in aula a novembre. Questo non è ancora certo, aspettiamo ovviamente il provvedimento del giudice, però stando a quanto era stato detto dell'appuntamento di ogni venerdì sì. Adesso come andrete avanti, qual è lo stato dato in modo del comitato e che cosa siete pronti a fare? Ad oggi purtroppo possiamo solo attendere che giunga questa decisione circa la riunione dei procedimenti e dobbiamo solo attendere perché poi successivamente non potremo fare nulla perché si tratta di un provvedimento inoppugnabile. Giuseppe, se non ci sono domande, dal Tribunale di Pescara è tutto e posso restituirvi definitivamente la linea. Grazie Stefano Recanati, grazie all'Avvocato, andiamo avanti adesso col nostro telegiornale. Due anni in appello alle maestre condannate per le violenze sui bambini in un asilo di Pettino. I legali delle tre donne attendono ora la pubblicazione della sentenza per valutare il ricorso in Cassazione. Daniela Rosone. A breve ci sarà la pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello che nei giorni scorsi ha confermato la condanna del primo grado a due anni di reclusione per le tre maestre accusate di aver maltrattato i bambini dell'asilo Cippe-Cioppa-Pettino. Sono Mari Carapele, 38 anni, di Alatri, Giuliana Colaiuda, 35 anni, di Barano di Torni in Parte e Costantina Bucci, aquilana di 35 anni, furono sospese, come si ricorderà, dal servizio a seguito della denuncia di due tirocinanti che avevano confermato i maltrattamenti dei bimbi, a loro dire imboccati per forza, strattonati, rimproverati duramente. A suffragare le testimonianze ci sarebbero state anche le immagini delle telecamere sistemate dagli agenti della squadra mobile della Questura. Allora a condurre le indagini fu Maurilio Grasso, il dirigente della squadra mobile, ma gli avvocati difensori Stefano Rossi, Manuela Paone e Ferdinando Paone sostengono che non si può parlare di maltrattamenti. Dal video non emergerebbero infatti violenze fisiche o brutalità varie, ha spiegato l'avvocato Stefano Rossi in alcuni casi. Si tratta di rimproveri considerati eccessivi dall'accusa. Ovviamente le assistite non la stanno vivendo bene, hanno detto i legali. Si valuterà il ricorso in Cassazione dopo la pubblicazione della sentenza. Sarà domani all'Università di Teramo la prima uscita pubblica del neoletto capo dipartimento di Casa Italia, la struttura voluta dal governo per la sicurezza. del paese in caso di rischi naturali. Si parlerà di ricostruzione e di proposte per sbloccare le 80.000 pratiche del cratere sismico. L'incontro è stato organizzato dal Lance di Teramo e dagli ordini professionali di architetti, ingegneri, geologi e geometri teramani. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Sono 80.000 le pratiche per la ricostruzione nel cratere sismico del centro Italia che aspettano di essere esaminate da più di tre anni dall'ultimo terremoto, 50.000 quelle per danno grave. Servono risorse, idee, sburocratizzazione, elementi che vanno inseriti nel testo unico della legge sulla ricostruzione che sta per essere varata. Il territorio teramano è tra più danneggiati e per questo arriva a Teramo in un convegno all'università Fabrizio Curcio, fresco di nomina come capo dipartimento di Casa Italia la struttura voluta dal governo per promuovere la sicurezza del paese in caso di rischi naturali. Ascolterà e recepirà le proposte che gli arriveranno dalle associazioni di categoria, dal Lance Teramo soprattutto che ha organizzato l'incontro e dagli ordini professionali, degli architetti, degli ingegneri, dei geologi e dei geometri di Teramo. Oggi purtroppo per gestire una pratica del sisma ci vogliono quasi più risorse per ricostruire un aggregato, questa cosa è inaccettabile perché questi costi poi ce li portiamo, ce li hanno a partire dai tecnici, dal progettista e direttore lavori per passare alle imprese e finire poi all'interno degli uffici speciali che non riescono a gestire nei tempi adeguati. Finalmente oggi, devo dire anche grazie al direttore dell'ufficio speciale che c'è oggi, con alcune azioni è riuscito ad aumentare la dotazione organica dell'ufficio e quindi si prevedono almeno 100 pratiche al mese di evasione. Per quanto riguarda invece la costruzione pubblica, la ricostruzione pubblica, siamo ancora un po' in alto mare perché si è fatto ancora poco. Dagli architetti Teramani arriveranno tante proposte al capo di Dipartimento di Casa Italia. Intanto l'introduzione di autocertificazione dei tecnici nei progetti di ricostruzione che abbatterebbe di molto i tempi della burocrazia. Ricostruire va bene, dicono, ma ci vogliono anche idee per rivitalizzare il territorio e far tornare le persone a viverci. Bisogna anche pensare all'emergenza sociale oltre che a quella infrastrutturale perché in questi dieci anni o forse più che ci vorranno per la ricostruzione, l'Aquila insegna a dieci anni il patrimonio privato è quasi del tutto ricostruito nella città, non nell'Interland, ma quello pubblico stende a decollare anche lì. Quindi azioni strutturali affinché vengano messe in sicurezza le scuole e si facciano interventi che facciano rinascere i nostri territori che erano già segnati da un abbandono pre-sisma accelerato dagli eventi sismici sia del 2009 che del 2016. Torniamo a Pescara dove un immobile confiscato alla malavita locale è stato consegnato questa mattina al comune di Pescara. Il sindaco Masci parla di trionfo della legalità in città. Paolo Renzetti. Prosegue la lotta alla criminalità del comune di Pescara. Questa mattina è stato consegnato all'amministrazione comunale un immobile confiscato alla malavita. Sì, oggi è un bel giorno per la comunità pescarese perché il comune di Pescara ha acquisito un immobile che era oggetto di atti criminosi al patrimonio dell'ente e quindi da oggi in poi quest'immobile che è ubicato in via Tevere numero 5, angolo via Salaravecchia, sarà a disposizione della città e quindi sarà a disposizione delle associazioni di volontariato o delle associazioni che si occupano di sociale o per esigenze di residenzialità pubblica. Comunque tutte questioni che riguardano i pescaresi perché oggi finalmente questo immobile che fino a qualche tempo fa era in mano a delinquenti, oggi invece è in mano ai pescaresi per bene. È un grande segnale, questo è il primo di 27 immobili che saranno acquisiti al patrimonio dell'ente comune di Pescara nei prossimi mesi, tant'è che il prossimo Consiglio Comunale vedrà approvata una delibera in cui ci sarà proprio l'acquisizione di questi beni al patrimonio comunale. E a proposito di confischi, la Guardia di Finanza di Pescara ha sequestrato circa 2 milioni di euro in beni mobili e immobili a un imprenditore del pescaresi finito ai domiciliari a maggio scorso per un evaso di 2 milioni e mezzo al fisco. Il servizio lo vediamo adesso. Era stata la sproporzione tra il patrimonio posseduto ed il reddito dichiarato ad insospettire la Guardia di Finanza di Pescara che oggi ha sequestrato beni mobili ed immobili per un valore di circa 2 milioni di euro ad un imprenditore del pescarese. L'uomo posto ai domiciliari nel maggio scorso è accusato di aver portato al fallimento due società accumulando ingenti debiti con l'erario per circa 2 milioni e mezzo di euro e veicolando la società di cui era capo a teste di legno. Il provvedimento disposto dal Tribunale dell'Aquila ha accolto la proposta di sequestro formulata dalla Procura della Repubblica di Pescara a seguito delle indagini delle fiamme gialle per bancarotta fraudolenta. Oltre all'imprenditore sono coinvolte nella vicenda altre sei persone tra cui un familiare a cui sarebbe stata fittiziamente intestata la partecipazione societaria sequestrata. Tasto zero e finanziamenti a fondo perduto per le piccole e medie imprese abruzzesi. La FIRA attende una mano alle aziende che non vogliono cedere agli usurai. Oggi una piccola media impresa, una piccolissima impresa ha difficoltà di accesso al credito, ha numerose difficoltà ed ha anche una certa onerosità rispetto all'accesso a questo. In quest'ottica si è reso necessario avviare un confronto fattivo con le banche e ieri quindi insieme alla Regione abbiamo avviato questo tavolo costruttivo di discussione del credito per cercare di trovare le misure più appropriate di supporto da parte del pubblico e quindi della Regione per il tramite della finanziaria regionale abruzzese affinché le piccole e medie imprese possano avere accesso al credito in termini più facilitate, in termini meno onerosi. Abbiamo già avviato con Abruzzo Crea, che è un bando già in essere, una misura finalizzata a concedere garanzie al sistema bancario e quindi ai soggetti che intendono accedere al credito alle piccole e medie imprese affinché le banche possano avere più facilitazione di erogazione del credito. Il credito cooperativo e altre banche, Banca Nazione del Lavoro, hanno già aderito in convenzione con Artigian Cassa e con Fira a questo tipo di misura, ieri nel tavolo che abbiamo tenuto insieme all'assessore Febo si sono manifestate grosse disponibilità da parte degli altri istituti e una grossa attenzione al problema. È stato davvero un momento di costruzione e di risoluzione concreto dei problemi. L'altra misura che invece è in cantiere e spero che presto ci sarà la validazione degli uffici regionali, è la concessione da un lato di un finanziamento agevolato a 5 anni a tasso zero direttamente da parte della finanziaria regionale abruzzese e dall'altro invece l'erogazione di un fondo perduto e questo per imprese che si sono costituite da meno di 4 anni, quindi per piccole e medie imprese che non avrebbero possibilità di accesso diretto al credito bancario e che hanno invece un'idea imprenditoriale che può essere anche di successo e non trovano le risorse per poterla realizzare. E questa mattina su delega della Procura della Repubblica di Pescara e per competenza del sostituto procuratore Anna Benigni, presso lo stabilimento balneare Discopab Tortuga c'è stata un'operazione congiunta degli uomini della Polizia Municipale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara. Secondo informazioni il blitz ha riguardato la verifica dei livelli di inquinamento acustico e le condizioni di sicurezza dei locali della struttura. Lo scorso mese di agosto il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, aveva firmato l'ordinanza di sospensione dell'intrattenimento al Tortuga Beach Club per il volume della musica troppo alto. Dopo il pensionamento del primario del reparto di ortopedia dell'ospedale di Popoli, sarà il primario del San Massimo di Penne, Domenico Palmieri, a coordinare e presiedere l'attività dei due presidi che manterranno le stesse competenze e la medesima operatività. Vediamo il servizio. Accorpamento dei reparti di ortopedia degli ospedali di Popoli e Penne che saranno diretti dal professor Domenico Palmieri, attuale responsabile del reparto dell'ospedale Vestino. La decisione presa dall'asla di Pescara è scaturita dopo il pensionamento del primario del nostro comio popolese e per dare continuità ai due reparti dei due ospedali che proseguiranno ad operare così come accaduto fino a ieri. A Popoli è andato via il dottor Canalini, abbiamo l'esigenza di rimpiazzarlo ma in questo momento è difficile reclutare gli ortopedici e quindi si è pensato con quello che abbiamo senza sguarnire penne di dare una direzione anche a Popoli assicurando quindi nel contempo la funzionalità e di penne e di popoli che continueranno a operare così come era sostanzialmente fino ad oggi. Non smobilitiamo assolutamente nulla, anzi in prospettiva rimetteremo personale su dove serve, quindi su entrambe le strutture. In questo momento di difficoltà non potevamo che fare in questo modo per dare una continuità assistenziale a entrambe le valli. Quest'operazione da un lato consente il decongestionamento di Pescara e da un l'altro consente è una operatività sulla traumatologia minore delle sedi di Popoli e di Penne, ovviamente questo senza nulla togliere all'assistenza dell'area vestina. Quindi questa operazione ci ha consentito da un lato di far fronte alla diminuzione di risorse umane ortopediche a Popoli per via di pensionamenti che ci sono stati. Ora il reclutamento degli ortopedici è abbastanza, diciamo, in questo ultimo periodo piuttosto difficile. Noi abbiamo fatto vari avvisi, anche procedure di mobilità, ma non è semplice. Intanto di ortopedici non è che se ne trovano tantissimi, ma soprattutto convincerli a, diciamo, posizionarsi su territori periferici è un'operazione abbastanza, diciamo, difficile. Però in questo modo, con un utilizzo dinamico delle risorse che abbiamo a Penne, si consente di far lavorare pienamente le sale operatorie sia di Penne che di Popoli, quindi con meno persone facciamo funzionare due strutture e anche con un responsabile, diciamo, che ha questa capacità e che a Penne ha dato anche buona prova. Ancora un'intera giornata senza produzione alla Sevel di Atessa per il mancato arrivo delle forniture dallo stabilimento FCA di Cassino, necessarie per l'assemblaggio del furgone Ducato. La direzione aziendale ha comunicato lo stop produttivo anche per oggi sul primo, secondo e terzo turno, che si conclude alle 6 di domani, 18 ottobre. Da venerdì scorso sono bloccati 20.000 addetti, compresi quelli delle fabbriche dell'Indotto, ripercussioni anche per le attività commerciali e di servizio. La Val di Sangro è in ginocchio. La Sevel rappresenta infatti il 12% del PIL abruzzese. Voltiamo totalmente pagina. Gli Stati Uniti tornano a danneggiare l'economia cubana. Questa è un'antica questione che continua a tormentare la geopolitica. Per condannare le azioni del presidente Trump ed esprimere solidarietà all'isola caraibica è nata un'associazione in Abruzzo. Trump torna ad attaccare Cuba e lo fa tramite la grande influenza economica in America Latina. Questo modello rivoluzionario è stato sempre sotto attacco delle potenze imperialiste occidentali e nonostante tutto questo è riuscito a garantire sempre ottimi livelli di sanità e di istruzione, come ricordano le fonti dell'ONU e il paese con la mortalità minorile e minore al mondo. Oltre il blocco e l'embargo è che loro i cubani lo chiamano il blocco che c'era stato sempre da parte degli Stati Uniti. Adesso ha inasprito le sanzioni non solo per quanto riguarda gli Stati Uniti ma gli altri paesi che vogliono collaborare e quindi avere rapporti commerciali con Cuba. Nella passata amministrazione sembrava che si stavano ad avere una fase di distensione ma adesso purtroppo la situazione è nuovamente precipitata e per questo bisogna essere più che mai vicino al popolo cubano. Anche in Abruzzo si organizza la solidarietà all'isola rivoluzionaria. È stata fondata un'associazione che faccia da ponte tra l'Italia e Cuba. Invitiamo tutti i cittadini sinceri democratici a essere presenti a questa iniziativa dove sarà presente la presidente nazionale Irma Di Olli dell'associazione e il primo segretario dell'ambasciata di Cuba. Quindi appunto invitiamo tutti a essere presenti e se vogliono attesterarsi alla costituente associazione. Cuba quindi romanticamente rappresenta ancora quel punto di riferimento ideologico della schiera più istituzionale tra la sinistra extraparlamentare. Siamo quasi alla fine del 2019, Fidel è morto, Cuba è ancora un farro del comunismo nel mondo? È un farro di libertà come dimostrano le lotte che ci sono state in questi giorni in Ecuador contro le popolazioni indigene che hanno marciato su Chito e hanno impedito che si facessero tutta una serie di riforme imposte dal Fondo Monetario Internazionale come ad esempio c'è una forte mobilitazione contro il governo fantoccio degli Stati Uniti ma purtroppo nei mezzi occidentali queste proteste non vengono quasi completamente censurate. E siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale. Sabato pomeriggio torna il campionato di Serie B dopo la sosta per le nazionali e il Pescara affronta l'Adriatico Lo Spezia, forte dell'ultimo successo a casa dell'Ascoli di qualche giorno fa. Cerca il primo gol anche l'attaccante Matteo Brunori che sarà confermato in attacco assieme a Galano nel nuovo modulo 3-5-2 sul quale Mr. Zauri sta lavorando da qualche giorno. Vediamo il servizio. Matteo si torna in campo con Lo Spezia. Avete lavorato bene dopo la vittoria di Ascoli. Un successo importante che vi ha permesso di trascorrere giorni tranquilli. Sì, sicuramente ci è servita una vittoria importante su un campo molto difficile e ci ha permesso di lavorare bene in questa settimana e di pensare alla gara contro Lo Spezia in maniera positiva. Non si derogherà dal 3-5-1-1, modulo che ha portato bene nella gara del Duca. Dunque Brunori giocherà in attacco al fianco di Galano. Sì, queste sono scelte che farà il mister. Io cerco di farmi trovare pronto quando me lo permette. Poi c'è il mister, quindi è giusto che le faccia lui. Quella con la formazione Ligure sarà la prima di due gare casalinghe consecutive. Un doppio turno allo stadio Adriatico che potrebbe essere importante per guadagnare qualche posizione di classifica. Sì, sicuramente noi giocando in casa abbiamo un piccolo vantaggio, però sta a noi prendercelo, quindi bisogna affrontare le gare come sempre, in maniera positiva e con la stessa grinta che abbiamo avuto ad Ascoli. Quindi sicuramente sono due gare importanti in casa e bisogna cercare di non sbagliare. Parliamo dello Spezia, Matteo, squadra che non ha iniziato benissimo il campionato, ma che è sicuramente formazione temibile. Sì, sicuramente. Hanno avuto dei piccoli problemini nell'inizio, però è una squadra che ha giocatori importanti, quindi è da prendere con le molle. Noi siamo pronti, ci stiamo preparando bene questa settimana, quindi affronteremo la gara in maniera ottima. Il proposito del nuovo modulo, bisognerà ora cercare di interpretarlo in maniera più offensiva rispetto alla gara di Ascoli e questo riguarda te anche direttamente? Sì, noi abbiamo iniziato il modulo proprio nella settimana di Ascoli, quindi ci vuole tempo, ci vuole di trovare qualche meccanismo, però questo lo troviamo con il lavoro durante la settimana, con il nuovo modulo, quindi ci vuole solo un po' di pazienza. Nella squadra Ligure ci sono dei giocatori che secondo te bisogna temere in maniera particolare? Sono tutti giocatori di categoria, anche la davanti, Ricci, Ragusa, sono comunque giocatori che hanno fatto sempre la categoria, quindi noi per portare a cassa i punti bisogna affrontare le gare come l'abbiamo affrontata da Ascoli e sicuramente ci darà una grossa mano. Sabato riprenderà la caccia al gol per te, aspetti questa prima rete in stagione, ma lo hai detto anche nei giorni scorsi, non deve essere questo un assillo? No, assolutamente, anche perché più ci pensi più non viene, quindi l'importante è portare a casa i tre punti, poi il gol nel momento in cui ci pensi meno arriva, quindi sono tranquillo. E ora la Serie C, a un passo dalla seconda gara senza subire reti, il portiere del Terramo, Matteo Tomei, conferma che il lavoro fatto finora del Biancorossi non basta per risalire la classifica. E il Diavolo che domenica pomeriggio affronta la Paganese, primo di tre impegni in una settimana, la prossima. Vediamo il servizio. Ma sarebbe stato bello, sì, soprattutto per un orgoglio di squadra, non solo per un fattore personale, quindi sì, sarebbe stato bello, però ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti. Ma visto da dietro è stata un'azione che potevamo essere più attenti, quindi, ma è proprio per questo che siamo arrabbiati, perché non stiamo regalando quelle soddisfazioni ad una proprietà, allo staff, a noi e soprattutto ai nostri tifosi che vengono sempre numerosi a sostenerci, quindi siamo arrabbiati perché non stiamo regalando queste soddisfazioni. In questo momento noi stiamo lavorando sette giorni su sette, stiamo dando quello che per noi in questo momento è il 100% e non basta. E quindi dobbiamo lavorare magari otto giorni su otto e dare il 120%. Questo è il momento attuale e quindi dobbiamo lavorare e andare avanti. Non sono dettagli che mi riguardano quanto costa questa squadra, quanto il presidente nostro ha investito, ha avuto i suoi buoni motivi per farlo, è una persona di grande correttezza e entusiasmo, quindi non entro in questo marito qui, non sono cose di mia competenza. La domanda è la seconda? Io credo che il Potenza è prima in classifica e credo che è giusto che i dirigenti del Potenza festeggino il loro risultato senza parlare del termo, perché se fossero anche loro nella situazione in cui siamo noi probabilmente anche loro si farebbero qualche interrogativo in meno di una squadra che non è la loro. E quindi di conseguenza non mi soffermo molto in quello che dicono le altre persone che non fanno parte di questo mondo, di questo mondo bianco-rosso che è il mondo del terramo calcio. Quindi di conseguenza non mi interessa, faccio i complimenti a loro che sono prima in classifica e basta. Il calcio è questo, è figlio di tanti episodi. E' stato bravo, ha fatto gol e quindi di conseguenza bisogna applaudire con massima umiltà e massimo rispetto anche gli avversari. Quindi è giusto che in questo momento qui loro siano primi in classifica. Noi, ripeto e ribadisco che è una cosa molto importante che sento mia e penso anche dei miei compagni, che noi lavoreremo e dobbiamo lavorare e dare di più per regalare soddisfazioni che questa città e tutto questo staff che c'è meritano. E adesso lasciamo i campi da calcio perché questo weekend avrà luogo la diciannovesima edizione della Maratona d'Annunziana per cui sono attesi tanti partecipanti. L'evento non sarà dedicato solo agli agonisti, ci saranno infatti anche la passeggiata d'Annunziana e le gare riservate ai bimbi. Vediamo. Sarà un sabato di corsa a Pescara e non per la frenesia del traffico ma per la Maratona d'Annunziana. L'annuale appuntamento sportivo è giunto ormai alla diciannovesima edizione. Sarò lì ad applaudirli, a correre comunque dalla mattina prestissimo per preparare il percorso, per fare tutti gli allestimenti, per cercare di coordinare tutti i vari settori di un'organizzazione che continua a crescere, grazie a Dio cresce insieme ai numeri, alle partecipazioni e anche al tasso tecnico. La Maratona, organizzata in collaborazione con la WISP, l'ente di promozione sportiva, sarà corsa principalmente sulla riviera e vedrà la partecipazione di numerosi atleti. La Maratona nasce ed è un evento agonistico di alto livello, è una manifestazione nazionale WISP, assegna il titolo regionale di Maratona e è valido per 50 punti del circuito Corrillo Abruzzo-WISP. Ma non solo agonisti, anche quest'anno infatti è prevista la passeggiata d'Annunziana, un itinerario alla portata anche dei meno allenati, alla riscoperta dei luoghi più caratteristici di Pescara. La Maratona da quest'anno sinceramente si apre anche ad una passeggiata d'Annunziana, dove si unisce il sociale ed è qui che fanno parte ben quattro associazioni, che insieme lottano contro la prevenzione e per realizzare progetti di solidarietà. La competizione è al via sabato mattina, tanti partecipanti attesi da tutto l'Abruzzo e non solo. Più o meno saranno 2000 i partecipanti che verranno da tutta Italia e non solo, anche dall'estero. Quindi anche per il territorio sarà veramente un grande vanto. Avremo la possibilità di far vedere la nostra bellissima Pescara e inoltre ci sono stati anche dei servizi aggiuntivi con pacchi gara e premi, dove valorizzeremo sicuramente i prodotti del nostro territorio. Ed era l'ultima notizia per questa edizione. Vi ricordo che tutti quanti i nostri servizi li potete recuperare sul canale YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Il TG6 torna alle ore 19. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.